ciao ciao a tutti siamo di nuovo qui pronti per un nuovo video insieme tranquillo e andiamo subito con un cross front 4 più 4 energy per voi ci siamo andiamo dai ritmo via passo 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 cambio lato vai uno due tre e quattro vai uno vai tre si cambia 2 più 2 passo passo vai passo ma cadiamo ma cadiamo e si va si va ancora 1 2 più 2 2 più 2 vai pronti su col braccio andiamo vai su 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 vai 2 vai su una braccia vai cadiamo e cadiamo pronti e ancora vai ancora vai ancora col braccio in avanti pronti via braccio in avanti vai 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 pronti cross fronte si riparte via 1 2 3 e andiamo vai passo passo vai cadiamo vai cadiamo via ancora e ancora e ancora via passo 2 1 vai 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 si va si va passo tranquillo e ancora oh ci siamo u su 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 ci siamo foot step, via vai, tranquillo piano e si va ritmo tutto il seno, via e ancora continuiamo in step touch passo, passo, vai tranquillo movimento ci siamo via che si riparte con cross front di nuovo un 4 più 4 pronti ci siamo via 1, 2, 3 4, cambio, vai vai, vai su con le braccia su, 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 via vai su con le braccia e ancora, via vai con le braccia in avanti su, via vai vai con le braccia vai con le braccia vai con le braccia dai ma è ancora, ancora mi raccomando su, su step touch dai ci siamo continuiamo, continuiamo step touch, step touch, via riprendiamo il piatto riprendiamo il ritmo dai pronti ci siamo premi sul posto tutti insieme e andiamo talloni, via vai 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 che andiamo vai che andiamo e dai ritmo via ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo pronti retcar tutti due via uno due vai uno e si va si va vai vai ancora vai 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 si va si va si va via vai 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 veloci ci siamo ci siamo un pochino via via ci siamo un pochino dai ne facciamo uno solo via uno 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 movimento degli addominali laterali vai si va si va si va solo da un lato ancora vai qua vai ancora pronti movimento laterale del busto e andiamo via vai vai mi metto da tirare mi metto da tirare dai eh eh via 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 fermi sul posto ci siamo eh ci siamo eccola vai oh un bel movimento movimento ci siamo pronti mezzo mezzo sport vai 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 dai velocizziamo un pochino eh un pochino subito andiamo tutti i cali uno più uno vai hey 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 si va si va si va vai vai ecco 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 pronti addominale laterale davanti all'altro ci siamo siamo pronti siamo caldi ritmo via vai ci va ci va via movimento uno due vai 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 ancora pronti sul posto movimento laterale dai 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 scusiamo tranquilli e andiamo ritmo pronti spettaggio passo passo e andiamo ritmo boost step vai passo passo si va ancora vai boost step andiamo boost step via camminata laterale e boost step via boost step camminata boost step e andiamo camminata boost step camminata boost step si spinge di lato si spinge si spinge e andiamo al ritmo dai su 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 e ancora e ancora movimento ritmo andiamo dai ci siamo ci siamo boost step di nuovo passo e via vai che andiamo incrociando adesso pronti si incrocia vai vai tranquilli 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 via su 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 vai che andiamo vai che andiamo pronti cambio ma ancora si cambia vai giro si ruota via incrociando incrociando dai pronti a rispingere lateralmente pronti via si spinge si spinge via su 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 movimento movimento via e ancora e ancora vai che andiamo vai che andiamo vai che andiamo boost step vai movimento e ancora ancora ci siamo pronti pronti a cambiare lato pull up tutti insieme lato vai si va si va dai dai su 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 ancora 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 vai 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 sottili tantili pronti cagnolato su 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 si va si va movimento vai e ancora e ancora roti spinta tutti insieme passo e e si andiamo e nel ritmo vai passo passo movimento movimento ritmo ritmo su boost si va insieme movimento vai andiamo e andiamo ancora pronti tutti insieme ci siamo marcia su slancio alternato ci siamo via u slancio alternato su 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 si va pronti continuiamo camminata laterale in mezzo spot mi raccomando pronti pronti via mezzo scuola camminata cambio uno due vai cammino cammino vai uno due via si cammina si cammina pronti con lo slancio solo con lo slancio solo con la gamba via su 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 vai su solo con la gamba via su vai ancora pronti cambio cambio lato vai vai movimento movimento via movimento e ancora e ancora stop mezzo squat mezzo squat tranquilli eh vai 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 mezzo squat continuiamo mezzo squat slancio laterale alternato eh ci siamo via mezzo slancio vai vai prima da una parte e poi dall'alto su ancora via poi si continua slancio alternato davanti eh pronti via uno calcettato via vai su e ancora movimento andiamo dai dai e andiamo dai dai pronti a camminata laterale via andiamo cammino 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 vai cammino 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 via vai ancora vai ancora vai ancora via passo 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 vai uno vai ancora l'ultimo slancio solo da un lato e e su camminiamo via vai con lo slancio vai con lo slancio vai con lo slancio vai dai dai su su cambio di lato via via movimento hey come non vi ho sentito su continuiamo con il mezzo squat pronti e slancio laterale via mezzo su mezzo su mezzo su mezzo vai vai ancora dai ancora vai ancora vai ancora l'ultimo stop mezzo squat semplice vai vai giù 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 ancora ancora vai 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 si sente si sale via via mezzo squat e ritmo pronti sul posto andiamo in braccia vai prendiamo piatto e ripartiamo slanci davanti via uno vai uno vai uno vai uno si va si va su ancora via vai 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 alterniamo alterniamo via via vai che si alterna su dai che si alterna su continuiamo via su via ancora doppio e vai su su vai doppio su su vai doppio ci siamo marcia marcia sul posto prendiamo tempo prendiamo fiato ci giriamo di lato e andiamo con un knee up tutti insieme via su su solo da un lato via vai vai ancora su su pronti movimento dei talloni sul posto ci siamo vai 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 spingere di là su knee up via 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 metto metto vai cadiamo vai cadiamo poi metto su su ci siamo mezzo squat piano tranquilli piano dai dai oggi è la giornata dei metti squat dai su offerta speciale via mi fermo talloni pronti pronti eh pronti come ok dai ci siete sono più perso no allora continuiamo torsione e ginocchio su solo da un lato eh via su vai 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 su su cadiamo su cadiamo su cadiamo dai su cadiamo su cadiamo su cadiamo via via e poi poi cambio lato via hey 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 tutto in senso su 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 e ancora e ancora via cadiamo via cadiamo pronti mia vai si va si va su su ancora vai cadiamo vai cadiamo pronti cambio vai 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 su 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 cadiamo su cadiamo vai mi ha mi ha mi ha dai così net cut uno più uno vai su cadiamo e movimento ritmo vai mi raccomando toglie il contratto sempre rimaniamo sul posto col movimento dei tattoloni pronti dai top ci siamo ci siamo fermi fermi mi raccomando portiamo le mani alla testa movimento laterale del busto insieme via ci siamo pronti passo manco e allungo dietro ci siamo pronti via passo è lungo vai passo vai passo vai passo vai ancora vai passo è lungo vai cambio passo è lungo via passo e allungo via passo e allungo via passo e allungo l'ultimo movimento stop muovo le braccia e scendo via muovo le braccia ginocchia ginocchia piegate mi raccomando pronti riprendo le mani la testa di nuovo nato via ancora vai che andiamo vai che andiamo via vai che andiamo siamo fermi dai ritmo che sale ritmo pronti tutti insieme di nuovo mambo e rumbo dietro ci siamo siamo pronti siamo grandi e allora si va passo vai vai ancora non devi cambiare lato eh pronti pronti cambio vai 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 ancora movimento vai ancora vai ancora vai pronti crossback passo prendiamo il fiato ci siamo tranquilli prendiamo il tempo prendiamo il fiato mi raccomando non spiamoli da pure mi raccomando sempre e andiamo di passo mambo avanti e dietro via via tranquilli e passo e si va e movimento vai e ancora vai 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 prendiamo il fiato e mambo su e su vai su 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 via vai ancora vai ancora pronti mambo via via uno vai su 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 andiamo via attenzione via su e andiamo e andiamo pronti mambo semplice la vai di dietro passo via ritmo andiamo andiamo passo tranquilli eh pronti ritorniamo davanti cross back tranquillo tranquillo uno uno via passo passo hey passo hey vai hey vai hey voce hey come dai ci siamo mambo mia pulizzo mia su vai hey mambo mia vai 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 caniamo hey vai che si va vai che si va vai che si va cambio su su movimento su su vai mambo mia mambo mia dai pronti ci siamo sul posto marcia tranquilli tutti insieme prendiamo fiato prendiamo la carica che si riparte si riparte pronti camminata laterale tutti insieme ci siamo e via basso si va vai tranquilli basso insieme dai uno e due e ancora uno e due via uno e due pronti calciata saltellata si saltano via vai dai 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 su 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 ci siamo un po' più veloce alterniamo slancio su e dai vai passo ancora su e movimento vai ancora vai sul posto metto squat tranquilli ho detto oggi c'è la promozione speciale dei mezzi squat quindi dai vai basso basso dai ancora ancora via pronti marcia prendiamo il piatto prendiamo il tempo e e mettiamoci uno stancho alternato tutti insieme pronti ci siamo siamo pronti siamo caldi come 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 veloce 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 su passo vai dai su hey hey cambio vai 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 ancora camminata laterale passo v-step e continuiamo camminata e v-step dai dai camminata e v-step insieme via camminata e ancora v-step si salzella calciava dai vai 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 su 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 vai vai dai 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 su calcio calcio poi cosa facciamo esatto metto squat vai 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 ancora dai su su movimento movimento via via ancora via ancora pronti touch vai passo prendiamo il tempo prendiamo il tempo ci siamo passo la terra in mezzo squat via uno due vai uno due vai uno due vai e ancora vai vai continuiamo mezzo squat e pugno pronti alternando via pugno e passo e vai ancora vai vai pronti continuiamo con il pugno incrociato ci siamo via pugno pugno vai vai si va si va ancora ancora via via vai pugno alternato e cinocchio alternato via vai alterno e alterno via uno vai passo passo vai uno e si va si va passo vai parata ancora veloce via para para via su su dai che pariamo dai che pariamo via via su su continuiamo mezzo squat pugno alternato via passo vai 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 su su pugno incrociato ci siamo vai pugno e ancora e ancora e ancora su 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 continuiamo ginocchio alternato pugno alternato pronti ci siamo via ginocchio pugno vai e e si va si va vai ancora dai pronti su ginocchio pronti via su ginocchio uno 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 su 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 vai vai veloce veloce via vai 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 ancora stop parata ci siamo parata e alterniamo anche il ginocchio pronti ci siamo veloce via uno vai su vai doppio via su su vai ancora vai su da un lato pronti ci siamo pronti ancora su con ginocchio via su su via vai su su vai vai cambiato vai cambiato su cambio lato hey hey vai 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 cambiato vai cambiato su su ci siamo ripartiamo parata e ginocchio su via uno due ginocchio hey hey doppio uno due ginocchio su hey vai andiamo su uno due vai passo uno due parata semplice vai 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 movimento 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 via ripartiamo col ginocchio via hey su su vai andiamo movimento movimento e ancora ancora dai dai via ancora via ancora su su cambio si va si va dai movimento via movimento movimento e di nuovo parata su posto pronti via prendiamo piatto prendiamo piatto via che ripartiamo parata e ginocchio via doppio uno due movimento via su uno due via su uno due vai movimento via uno due vai vai marcia ci siamo passo passo pronti corsa sul posto veloce è un passo laterale alternato pronti via passo vai ancora corro via passo vai mammo vai movimento via vai 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 pronti sul posto passo laterale doppio due via uno due uno due vai hey hey movimenti veloci vai hey hey veloci veloci ancora passo passo mammo si va si va vai 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 ancora pronti che si corre sul posto con un passo laterale ci siamo via corro vai vai passo vai uno si corre si corre si corre via ancora ancora vai vai passo si corre via si corre passo mammo mammo vai movimento movimento vai vai ci siamo per un cambio di lato vai 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 ci va ci va ci va ci va ci va e ancora movimento pronti mammo è lungo dietro via mammo è lungo vai mammo è lungo mammo è lungo vai è lungo vai vai passo pronti pronti spinta spinta via ma un bel lungo dietro dall'altra parte pronti cambio veloce ci siamo pronti via passo dietro passo dietro passo e ancora passo vai passo vai passo pronti sul passo un jumping jack facilitato via vai tutti insieme su su vai e ancora pronti step touch complimenti complimenti allora dai che ci siamo dai che ci siamo rallentiamo il ritmo riprendiamo il fiato mi raccomando non stare in apnea e andiamo su col ginocchio via su dai su col ginocchio su col ginocchio qui ci siamo eh pronti cambiamo lato su cambiamo vai vai su 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 dentro ancora sul posto movimentazione via ora vai pronti allora vedete un po' faccio vai su il cire su cadiamo su cadiamo vai via pronti cambiamo lato mi raccomando pronti cambiamo lato dai vai ci vediamo vai 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 tranquilli tranquilli su dai dai ci siamo torniamo in avanti facciamo stretching da squadra vai via vai ancora vai ancora sul posto ok andiamo giù andiamo giù unicipite per morale tutti i cieli via due vai giù cadiamo via cadiamo lato ci cambia via due via cadiamo via su su mi raccomando ci allontiamo ci allontiamo su via su 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 cuore ancora via diciamo dai che ci siamo e si cambia vai 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 dai qua dai ancora ok e piu pure sempre andiamo con la gamba muoversi eh su dai indietro via dai dai su ancora via ci siamo rondi a cambiare lato eh si cambia dai via vai cantiamo vai cantiamo dai ci siamo ci siamo torsione del busto via cambiamo lato ci va vai ancora ancora siamo bravissimi bravissimi e io vi aspetto al prossimo video vi ricordo il nostro diario fixfit e ciao energy ciao ciao Grazie a tutti